La colonia Olivetti sorge in un luogo splendido, su una pinetta, sul mare, con una sabbia fine che è un po' un unicomo nella Liguria, però da tantissimi anni è lasciata al degrado. Come si può fare per rilanciare questa struttura? Potrei fare una battuta e dire speriamo che sia la volta buona, quindi a parte tutto credo che l'inserimento in un programma del genere sia veramente un messaggio importante che vogliamo dare al mercato immobiliare e penso che l'operazione sia veramente di qualità. Si è sempre parlato di tante funzioni per questo edificio, un centro di ricerca, ritornare alla sua funzione originaria. Lei quale pensa possa essere la soluzione migliore? Ovviamente questo complesso immobiliare è una destinazione urbanistica, con il comune l'interlocuzione sempre aperta per cercare di rispondere al meglio a quelle che possono essere le funzioni naturali e congeniali di questa struttura. Io penso che già questo assetto possa essere di grande interesse per il mercato. Anche perché potrebbe essere il punto di partenza per la riqualificazione di un intero litorale che ha poco da invidiare rispetto alla Versiglia Toscana così tanto frequentata e decantata. Direi di sì, io direi Forza Liguria sempre e comunque, quindi l'operazione che è stata presentata dal comune è un bel punto di partenza e quindi ci crediamo tutti e credo che il sistema regionale, il sistema delle arte nel caso specifico stia dando delle risposte importanti.